Allora, questa signora dopo l'intervento di ernea del disco, della sinistra, ha avuto un deficit muscolare. Vediamo a destra si muove piuttosto bene, quindi funziona, gli estensori funzionano, il tibiale funziona, i peronieri funzionano molto bene e il tendine d'Achille, brava. Facciamo anche sull'altra, quindi andiamo verso l'esterno, verso l'esterno, vada, pigi sulla mia mano, tendine d'Achille funziona molto bene, molto forte, vada verso la parete, internamente, meno bene, e tiri su bene, tiri insieme tutti e due, giù, su, su, giù, su. Si vede che il deficit è degli estensori, soprattutto il tibiale, il tibiale anteriore e anche il tibiale posteriore. Quindi c'è la possibilità di dare una certa efficienza alla estensione di questo piede, riportando una forza e un'elettricità sul dorso del piede, in modo che si possa migliorare l'estensione. Grazie. 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 Grazie.